Il visitatore del Museo Civico di Bierson, il Museo Carlo Verri, può fare, se si interessa di storia antica, una piccola interessante scoperta e potrà vedere e valutare il piccolo oggetto che ho tra le mani. È un oggetto che ha circa 1600 anni ed è uno strumento, un piccolo strumento dell'abbigliamento antico di quel periodo. E' quello che noi chiamiamo fibula, in tedesco è Zwiebel Kopf Fiebeln, cioè la fibula a testa di cipolla, in modo molto più semplice, una spilla, semplicemente una spilla. E quello che probabilmente il visitatore non si attende è scoprire che in quell'epoca i romani del periodo imperiale, Tardo, non usavano bottoni, bottoni come li concepiamo oggi, bottoni con l'asola che servivano per chiudere le vesti. I romani usavano invece vesti che o avvolgevano intorno al corpo, come il tabarro, che forse molti di noi si ricordano, talvolta tabarro con cappuccio. Oppure per i vestiti più eleganti usavano una tunica, simile a quella di un vestito ecclesiastico oggi, e al di sopra un mantello. Il mantello veniva chiuso sulla spalla da una fibula, cioè da una spilla di sicurezza. Perché sappiamo con esattezza questo? Beh, basta che il visitatore si sposti da Biassono a Monza, al Museo del Duomo, e trova un oggetto meraviglioso, assolutamente incredibile, che neppure il Museo del Louvre ha con questa importanza, con questa bellezza, trova un dittico consolare che era stato donato a Flavio Stilicone intorno all'anno 400 d.C., quando era stato nominato console. Chi era questo Stilicone? Era il padrone dell'impero d'Occidente, in pratica. Praticamente controlla, diventando il tutore, potremmo dire, dell'imperatore Onorio, che era bambino quando lui nel 395 giunge al potere, era Patrizio, Patricius Romanorum, cioè capo dell'amministrazione civile dell'impero, era il console, la vecchia carica consolare romana, era Magister Viltum, cioè comandante generale dell'esercito dell'impero romano. Esercito dell'impero romano che controllava un territorio enorme, controllava l'Italia, la Francia, la Germania, la Britannia, la Spagna, il Nord Africa, un discorso praticamente inimmaginabile per noi oggi. E non era romano, era per noi un barbaro, in realtà era un germano, un vandalo appartenente allo stesso gruppo umano che poi nel 455 arriva dall'Africa e prende d'assalto e devasta e saccheggia Roma nel 455 d.C. Ma in questo momento è un ufficiale delle truppe alleate dell'impero romano che ha raggiunto il più alto livello del potere e riceve il dittico che era un prodotto prezioso, erano tavolette cerate, sui quali erano scritte lodi alla sua nomina con il testo inciso sulla cera e con la sua rappresentazione con tutti i simboli del potere e su un lato e sull'altro lato con la rappresentazione della moglie che è Serena, chiamava Serena, e del figliolo Euccherio. Tutti e due fecero una brutta fine dopo che Stilecone nel 408 fu decapitato e sostituito da un altro anche lui barbaro al potere. Ebbene Stilecone ci mostra nella sua rappresentazione la fibula che gli ferma il mantello e si vede subito come la fibula veniva collocata in modo di avere la parte lineare, diciamo, verso l'alto, in questa posizione, esattamente in questa posizione e normalmente noi quando vediamo questi oggetti li mettiamo sempre, presentiamo in questa posizione e questo è sbagliato. Ebbene Stilecone probabilmente aveva una fibula ben più russuosa di quella conservata nel museo di Biassono, una fibula d'oro, una fibula di una clamorosa bellezza. Noi abbiamo degli esempi di fibula di grande importanza che erano riservate ai personaggi più importanti dell'impero. Cioè qualunque personaggio al vertice, incominciando dall'imperatore, portava la fibula che diventava un simbolo di status. Naturalmente la cosa riguardava anche i funzionari, anche quelli di grado inferiore, ma sempre in posizione importante. Quindi la nostra fibula del museo di Biassono era chiaramente appartenuta a un altissimo ufficiale dell'esercito romano che aveva questo oggetto in bronzo rivestito di lamina d'oro e la lamina è decorata con un motivo estremamente interessante a trattini finissimi. Quando venne usato questa specie di distintivo, un distintivo del potere, ma venne usato per tempi piuttosto lunghi, perché noi abbiamo ad esempio a Capodistria una fibula che ha scritto sul fianco il nome di Massenzio e del figlio Romolo. Quindi siamo intorno al 310 d.C. Massenzio, lo ricorderò, è quello che viene vinto a Ponte Milvio nel 313 da Costantino I, da Costantino Grande. Mentre invece l'immagine di Stilicone è dell'anno 400. Quindi siamo fra l'anno 300 e l'anno 400, 450. Queste sono le date per questi oggetti. Ma Stilicone si presenta anche con un altro particolare interessante nel dittico che vorrei segnalare. si presenta con la spada e la spada ha al vertice dell'impugnatura una sfera che non è metallica, è una sfera probabilmente in cristallo o in pietra dura ed è un amuleto. Dove era più conveniente collocare un amuleto che aveva la forma di sfera? Beh, sul manico, sull'impugnatura della spada direi che era il posto più corretto per la propria difesa. I Longobardi più tardi lo portavano in un sacchetto appeso alla cintura e ancora oggi noi troviamo nelle tombe Longobarde la sfera di cristallo che era appesa alla cintura del guerriero Longobardo. Ricordiamoci che la sfera poi è una storia molto lunga. Ancora oggi noi parliamo di sfera di cristallo per consultare il futuro. quindi un oggetto magico. E noi abbiamo trovato nel foro romano, sotto il palatino, un deposito di oggetti preziosi e fra questi oggetti preziosi c'è anche quello che viene definito lo scettro di Massenzio ed è per questo che ve ne parlo. Forse non era suo, però sicuramente Massenzio aveva un scettro simile che ha una terminazione proprio con una sfera in pietra dura. Ma anche la fibula ha un'evoluzione. Un secolo dopo la fibula che ferma il mantello di stilicone noi abbiamo una moda che si diffonde ed è quella della fibula disco. Cioè la fibula diventa un gioiello discoidale che ha applicato sul retro l'ardiglione, l'ago, che lo trasforma in una spilla di sicurezza. e questa fibula disco serviva sulla spalla a fermare il mantello esattamente come le fibule a testa di cipolla, come quelle che abbiamo visto prima. e noi abbiamo anche un esemplare assolutamente straordinario che è una medaglia o moneta da tre solidi di Teodorico. siamo nel 500 circa dopo Cristo che viene trasformata in una spilla di sicurezza e che serviva a fermare il mantello di qualche altissimo dignitario ostrogotto subito dopo la conquista dell'Italia. ma non vi era solamente questa tipologia di spilla che si diffonde soprattutto con le popolazioni germaniche in Italia e in Europa. ogni personaggio importante che aveva da fermarsi il mantello sul corpo usava non i bottoni, come abbiamo detto, ma fibbie, fibule. e queste fibule sono degli oggetti che diventano col tempo sempre più ricchi e sono oggetti che hanno una tipologia, una forma, che è specifica per ogni gruppo germanico. cioè gli ostrogotti li avevano con una determinata forma e i longobardi ce li avevano con un'altra forma. e se noi vogliamo vedere la forma delle fibbie che a questo punto vengono usate soprattutto dalle grandi dame, dalle signore ostrogotte noi dobbiamo andare a San Marino e a San Marino è stato recuperato uno splendido corredo in una tomba femminile dove abbiamo la presenza, al posto giusto, delle due fibule che fermavano il vestito di chi vi era sepolto, di una grande dama ricchissima che vi era sepolto. in questo caso le fibule hanno assunto il formato e l'immagine di aquile in cloisonnè cioè in pietre incastonate in un reticolo di oro. poi abbiamo a Nocera Umbra, nella necropoli Longobarda, 50 anni dopo, anche un esempio di fibula tipicamente Longobarda. ma a questo punto mi sono perso con il racconto dell'abbigliamento dei cosiddetti barbari dopo aver parlato dell'abbigliamento romano adottato dai comandanti germanici dell'esercito romano e non mi resta che invitare a venire a visitare il museo civico di Biassono e poi subito dopo invito il visitatore interessato ad andare a Monza, al museo del Duomo dove vedrà il litico di Stilicone e anche tantissimi altri tesori assolutamente incredibili. grazie